ciao a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale siamo ancora a bordo della mia macchina video breve ma una piccola novità cosa abbiamo fatto allora vediamo un attimo per chi ha i sedili riscaldati solitamente vi faccio un ingrandimento solitamente abbiamo la visione dei led che ci dà del calore del nostro sedile riscaldato novità delle novità adesso abbiamo fatto uscire menu anche in radio li vedete eccoli qua che ci danno l'indicazione di color rosso e possiamo chiaramente andare direttamente col touch a aumentare o diminuire l'intensità o spegnere del tutto vedete tac tac 22 33 13 eccetera eccetera direttamente dal touch molto carino e anche più insomma visibile insomma si vede nel display anche un senso grafico e visibile guardate qua dopo un po chiaramente spariscono per non dar fastidio eccoli qua bastare cliccarli poi andiamo a spegnerli ragazzi se vi è piaciuto il video vi interessa questa novità anche a voi nel display non vi resta che contattarci e chiederci informazioni mi raccomando un sacco di like e un sacco di commenti a presto e alla prossima ciao 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 ciao